Giovedì 8 dicembre ore 18 piazza del popolo. Queste le coordinate della partenza delle iniziative natalizie di Pesaro nel cuore. Una partenza che fa rima con l'accensione dell'albero più illuminato d'Italia ma basso consumo grazie alle 100.000 lucine a led e ai quattro portali luminescenti collocati nelle quattro porte d'accesso al centro storico. Una cerimonia di apertura che proseguirà con il concerto dei 50 elementi del coro Grillo d'Oro che accompagneranno l'apertura dei mercatini natalizi. Ho preparato un programma veramente interessante, un programma più articolato e più diciamo bello rispetto agli altri anni proprio perché volevamo far sì che nonostante il caro energia che ci ha portato via pista di pattinaggio e luminare nel centro storico possiamo in qualche modo scaldare il cuore dei pesaresi e dei tanti turisti che ci verranno a trovare in questo periodo. E quindi si accende Pesaro nel cuore dall'8 di dicembre all'8 di gennaio in Piazza del Popolo e in tante altre location della città avremo la possibilità di assistere a spettacoli di danza, spettacoli di musica, avremo la possibilità di assistere agli spettacoli di coccole sonore che porteranno in centro a Pesaro tanto divertimento, avremo la possibilità di gioire assieme a delle performance di cori gospel che in città porteranno l'atmosfera natalizia e tutto questo per come dicevo prima per far sì che turisti e cittadini possano vivere questo Natale e magari ecco in maniera calda e in maniera unita. E dunque appuntamento nella sera dell'Immacolata sotto l'albero che si illuminerà anche del tocco artistico delle palle decorative smaltate dalla maestria degli studenti del Liceo Mengaroni. Quest'anno in modo particolare perlomeno a me è piaciuto e penso anche ai ragazzi il soggetto, il tema sul risparmio energetico per cui c'è stato un recupero ma anche di un Natale più sobrio, più tradizionale che non è detto sia peggio, anzi forse c'era bisogno di recuperare anche dei valori, poi alla fine il Natale è bello e sfido chiunque a pensare che le palline di Natale, di un albero di Natale non siano affascinanti. Per cui i ragazzi hanno lavorato questo soggetto, pensando però anche addirittura a delle decorazioni vintage, per cui ancora un recupero più tradizionale del tutto.